Allora, ecco l'infinimento importante della parola di Dio di voi. Davvero, quando noi diciamo il Padre nostro, quando facciamo la comunione, quando ascoltiamo la parola, è sintonizzarci con quello che è il desiderio profondo. Certo, nella nostra umilità possiamo chiedere, dobbiamo chiedere con insistenza, ma contestualmente però, devo impegnarmi a vivere il Vangelo. Come faccio a mostrargli tutto il mio affetto per lo stesso? Come faccio a mostrargli? Ah, bene. Amando la persona che hai a fianco, dove sei? Basta, il Padre sa che non spesso ha bisogno di fare, non lo sa, ma tu non puoi, è dentro a questo attesamento, quello che posso fare, vorrei fare per me. Fanno che ci sia, fanno che ci sia un contratto, fanno che ci sia un cuore buono. Sì, fanno che ci sia un cuore buono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.